Oggi la sfida più grande che trova impegnata la nostra generazione è certamente l'emergenza climatica. Le sue conseguenze sono già tra di noi purtroppo e sono conseguenze terribili, lo stiamo imparando sulla nostra pelle. Però sono proprio i conservatori ad avere l'approccio più efficace, quello più generoso, quello meno conflittuale e meno utopistico. Lo dimostra la Decreazione per l'Azione Climatica del centro-destra, che è il documento che mi sto accingendo a sottoscrivere. E questa è la mia firma sul documento.